Disputare ma soprattutto c'è una stagione da chiudere nel migliore dei modi. Che cosa si sente di dire alla tifoseria Granata? Di stare tranquilli, di procedere, andare allo stadio, divertirsi, non fare niente, non accettare provocazioni innanzitutto. Devono andare là, divertirsi, vedere la loro squadra, esultare, tifare. Il risultato non mi interessa, tanto già stanno in Serie B. Devono andare solo per guardare la loro squadra, come hanno fatto i ragazzi che hanno seguito. Devono sempre seguire la squadra, ci devono credere come ci hanno creduto loro, fino all'ultimo. E devono festeggiare, possono fare quello che vogliono, però non devono fare niente. E' un appello che vi faccio a voi, ragazzi, non fate niente, non accettate provocazioni, lasciateli stare. Ognuno la pensa come vuole, ognuno dice quello che vuole. Io vi dico solo divertitevi, festeggiate e restate in Serie B perché ci rimarrete. Sono passati 16 anni, l'età che aveva mio figlio. 16 anni da quella brutta giornata. Adesso arriva la ricorrenza, facciamo una bella messa il 24 maggio, la chiesa dell'Annunziata. Chi vuole venire, le porte della chiesa sono aperte. Lo sapete, ve lo dico tutti gli anni. So che siete sempre numerosi, mi fa piacere che non dimenticate. Vi voglio un bene a tutti quanti, fate i bravi. Tra due settimane c'è la tragica ricorrenza, in questi giorni si festeggia, però è anche giusto ricordare, è necessario ricordare, del resto Salerno non ha mai dimenticato. Questo non lo posso dire, perché i ragazzi vengono, vedo sempre uno striscione nella curva in stadio qua a Salerno. Comunque loro lo portano nel cuore, portano i ragazzi nel cuore, fanno tutto e tutto quello che adesso stanno facendo. Io l'ho detto già su Facebook e gli ho detto tutti grazie, grazie di quello che fate, che li portate nel cuore. Mi fa sempre piacere, perché è un dolore di mamma, un dolore che ti porti dentro, non lo puoi condividere con nessuno. E ci convivi. Allora quando vedi queste cose ti fanno stare un poco meglio, ti fa piacere. È una tragedia che ha sconvolto Salerno, l'Italia, tutti. Non si può dire che uno non lo sa, perché è una menzogna, è una bugia, non si fa. Io voglio solo che non deve succedere più questo. Sono passati 16 anni e siamo ancora a queste cose. Non si può, non si può proprio. Si deve andare avanti, si va avanti. Adesso state in B. Quando andate agli stadi, gemellate, io ho fatto il gemellaggio qua sopra. Tengo tutte le sciarpe, pure la Juve Stabia me l'ha mandata la sciarpe. Il Genova, tutti vengono. Io gemello, gemellate pure voi. Così c'è la pace e la pace deve andare avanti così. Non si può fare, tu sei meglio di me, nessuno è il migliore degli altri. Il Signore giudica, il Signore definita. Io sono molto credente, ho molta fede. Per questo voi fate quello che vi sentite. Adesso che avete ascoltato queste parole, non so come le apprenderete, però mi raccomando, vi voglio bene tutti quanti.